Ma perché leggiamo narrativa weird? E perché, se siete autori, se siete scrittori, se siete aspiranti, perché la scriviamo? Perché? È quello che ho cercato di capire, ipotizzando alcune, diciamo, vie percorribili verso la comprensione di questo impulso, di questo impulso che ci dice, leggi questi libri così perturbanti. E ci ho provato in una conferenza che ho ottenuto insieme al sceneggiatore e scrittore Lucio Besana. Dove? A Libri da Hugot, che è un festival della narrativa horror-weird. Oggi voglio fare un riassunto e presentarvi un po' le nostre ipotesi su questo strano desiderio di leggere libri che, in un certo senso, ci fanno anche un po' del male, dal punto di vista emotivo. Ne parliamo dopo la sigla. Bene, narrativa weird, che è un oggetto letterario molto sfuggente, bisogna dirlo, molto evasivo, difficilmente etichettabile. Tanto è vero che, per alcuni, è diventato ormai quasi uno sport amatoriale, si può dire, a capigliarsi intorno alla definizione di questo strano, di questa strana cosa letteraria. Ecco, mettiamola così. Che si distingue, a quanto pare, dall'horror vero e proprio. Allora, facciamo un attimo il punto. Probabilmente, se seguite Broken Stories, dove parliamo di narrativa dark e immaginifica, sapete già che cos'è la letteratura, la narrativa weird. Nel caso foste neofiti, vi do il benvenuto. Naturalmente vi invito a iscrivervi a questo canale, dove approfondiamo questi temi e cerchiamo di, come dire, interessarci di tutta quella narrativa dell'immaginario e dark da un punto di vista non nerd, ma post-nerd. Ok, torniamo a noi. Il weird. Allora, naturalmente questa definizione, che letteralmente significa, in inglese, strano, ha delle origini abbastanza facilmente rintracciabili. In quel tipo di narrativa popolare, che negli anni, diciamo, tra i 20 anni 30 andava forte, in quelle riviste di appendice americane, soprattutto americane, che pubblicavano autori dediti a un certo tipo di narrativa dark. Naturalmente quella che è passata più alla storia fra queste riviste è Weird Tales, racconti strani. Anche perché lì pubblicava un autore che poi è stato, come dire, definito e riconosciuto come il padre della narrativa weird. Di chi sto parlando? Del signor H.P. Howard Phillips Lovecraft, che qui è, diciamo, rappresentato in questa edizione, io devo dire, favolosa degli Oscar Mondadori, curata dal compianto Giuseppe Lippi, dove trovate tutta, tutta, tutta la sua produzione. Io ve la consiglio, se volete leggere tutta Lovecraft, vi metto qua sotto il link al libro. Vi metterò dei diversi link durante, diciamo, alla fine, quando avrò finito di fare questo video, per permettervi di accostarvi alla narrativa weird con dei libri particolarmente rappresentativi, ok? Se vorrete acquistarli con i link che vi offro, io ci guadagnerò qualcosina, così mi aiuterete a mandare avanti questo progetto. Grazie. Quindi Lovecraft vara questa nuova corrente letteraria, si dirà in seguito, che è poi stata analizzata per cercare di capire effettivamente cosa fosse. Perché Lovecraft non è solo horror? Perché in effetti lui porta in campo, porta alla luce, un tipo di paura diversa, cioè una paura di un soprannaturale, o per meglio dire, di un alienità che è di per sé inconoscibile. Quindi lui porta in campo l'idea che tutto ciò che sappiamo sulla realtà è falso e le storie che racconta, le sue storie migliori, le più weird, narrano proprio questo disvelamento, questa epifania che però, al contrario di un'epifania positiva, è un'epifania orribile che fa vacillare ogni sicurezza, ogni certezza dei protagonisti. Davanti alla verità del cosmo, così com'è e non come noi ce lo rappresentiamo, i personaggi di Lovecraft o muoiono o impazziscono. Quindi il weird è un po' questa, ha questa caratteristica, ci dice che la realtà non è come noi pensiamo che sia, ed è questo che ci spaventa. Ci sono state diverse poi ricerche su questo, diversi approfondimenti. Una delle definizioni recenti e particolarmente interessanti viene da Mark Fisher, che ci ha detto che c'è una differenza fra il weird e l'horror, perché il weird fondamentalmente racconta e ci mostra che ciò che dovrebbe essere presente nella realtà così come la conosciamo, nelle storie weird è assente. Quindi ci racconta un'assenza ingiustificata e questa mancanza, questa privazione ci trasmette una sensazione specifica che è quella paura tipica del weird, quell'emozione tipica del weird. Quindi comunque siamo sempre in un territorio dark. Mentre l'horror, dice Fisher, ci racconta qualcosa che non dovrebbe esserci, ma c'è. Facciamo un esempio. Il vampiro, il lupo mannaro, queste creature che non dovrebbero esserci, ma ci sono. Ecco, naturalmente non si può catalogare in maniera eccessivamente rigida tutto questo, perché la narrativa dark ha tantissime sfumature, tanti grigi. Non stiamo parlando di bianco e nero, ok? Però, però, stiamo parlando con il weird comunque di, queste un po' sono le coordinate secondo me, un genere che racconta l'inconoscibile, ciò che proprio non può essere compreso e che quindi ci destabilizza e che nelle sue caratteristiche generali, diciamo, si denota come un'assenza, un vuoto. Ecco, un vuoto. Ecco, questo è stato proprio forse la parola che ha spinto, che ci ha mosso, me e il sottoscritto è Besana, a ragionare. E io l'ho fatto anche da un'esperienza, insomma, più biografica, mettiamola così. È una cosa che succede molto spesso, sempre più spesso ultimamente, infatti poi se ne parla anche di più, quella cosa che è quel fenomeno che viene chiamato ghosting. Non so se ne siete mai stati vittima. In cosa consiste? Diciamo che voi amiate una persona. Avete un bellissimo rapporto, le cose vanno avanti apparentemente bene, apparentemente, chiaro. Ma poi, da un giorno all'altro, quella persona scompare nel nulla, o meglio, decide consapevolmente di scomparire nel nulla, non è più nella vostra vita e non c'è modo di farla rientrare. Non so se vi è capitato. Posso testimoniarvi che, avendo vissuto qualcosa di simile, se non proprio tale, quello che succede è un po' come quando ti muore una persona. Ok? Una persona a cui vuoi bene. Cosa succede? Che tu hai proprio un vuoto. Ripensando a quella sensazione lì, mi è nato spontaneo di paragonarla alla sensazione del vuoto d'aria, quella che si prova quando si viaggia in aereo. Improvvisamente l'aereo fa così e quella caduta, quella vertigine, nel trauma da ghosting dura non pochi secondi, ma uno, due, tre mesi, quello che volete voi. Può durare molto a lungo. Quindi è un trauma, ovvero è proprio. Ed è tale, viene descritto così, non da me, ma dagli esperti, dagli psicologi. Ok? Può essere un trauma molto duro. Bene, questo vuoto che si viene a creare mi ha fatto pensare ai tanti vuoti che si vengono a creare nelle nostre esistenze di individui contemporanei, in un mondo che, come sappiamo benissimo, è in costante, rapidissima evoluzione o per meglio dire trasformazione, cambiamento. Cioè il livello di, la velocità con cui il mondo cambia è ormai tale per cui le nostre, la nostra sensibilità che si è evoluta, questo sì, nell'arco delle centinaia di migliaia di anni, non è in grado di star dietro, di stargli dietro. Questo crea senz'altro un disagio. Questo disagio può essere paragonato a volte al vuoto d'aria. Per esempio, i rapporti, torniamo ai rapporti interpersonali, sappiamo che sono diventati sempre più liquidi, sempre più deboli, una volta c'erano molte più certezze da questo punto di vista, magari deleterie sotto certi profili, ma comunque certezze, cioè dei pieni, non dei vuoti. Ci si sposa e il matrimonio dura tutta la vita. Adesso l'80% circa dei matrimoni finisce. Per cui i rapporti sono molto veloci, il lavoro è estremamente transitorio quando c'è. I diritti lavorativi sono aleatori, sempre più minacciati. Un certo ordine sociale è messo in discussione per star dietro appunto allo sviluppo di una nuova realtà. E questo capita fondamentalmente in tantissimi, se non tutti, gli ambiti dell'esistenza. Cioè tutto è talmente sottoposto a cambiamento, a trasformazione, che noi, secondo la nostra ipotesi, cioè di Besana e del sottoscritto, noi siamo sottoposti continuamente a questo vuoto d'aria, a questi vuoti d'aria. Siamo diventati anche molto bravi ad adattarci, allo sperimentarli. Siamo diventati capaci quasi di non risentirne più, ma siamo proprio sicuri che sia così. Siamo proprio sicuri che non avere più nessuna certezza all'esterno della nostra persona, in quella che Zygmunt Bauman ha chiamato la società liquida. Beh, siamo proprio sicuri che in questa liquidità i nostri traumi non ci creino comunque delle ripercussioni. Ecco, l'idea è che secondo me, secondo anche Besana, noi siamo continuamente sottoposti al trauma di questa trasformazione vorticosa, spesso repentina, in cui ciò che pensavamo sarebbe stato nostro diritto o comunque ciò che avremmo avuto dalla vita. Ecco, questo non è più così. Pensiamo anche soltanto all'ipotesi della pensione, che un giorno che sta... è già messa in discussione, è già messa a repentaglio, già la narrazione pubblica è già che i giovani di oggi non l'avranno e probabilmente neanch'io che non sono più giovane. Ok, quindi siamo già di fronte a questo muro e parliamo ancora di come si parli oggi di cambiamento climatico come potenziale, se non probabile, causa di disastri di proporzioni bibliche negli anni a venire. Ok? Ok, siamo di fronte quindi a tutta una narrazione globale dove è difficile aggrapparsi a una qualsiasi sicurezza. I vuoti d'aria sono continui e i traumi di conseguenza altrettanto. Quello che noi pensavamo ci sarebbe stato nelle nostre vite non c'è. Ed è proprio questo che racconta la narrativa weird. L'orrore, lo spavento, il disorientamento traumatico dello scoprire che qualcosa... che le cose dovrebbero essere in un certo modo. E invece non lo sono. E non resta che operire o adattarsi. O magari impazzire. Ecco, allora ecco che la narrativa weird ci, in un certo senso, ci permette di far fronte, o perlomeno di sperimentare, di riportare alla luce, in forma allegorica, trasfigurata, di portare alla luce questi nostri traumi. Di riviverli sulle pagine, sulle pagine di Lovecraft, che ci dà quella sensazione, no? Che aveva anche lui in vita. Quale? Quella che il mondo non dovrebbe essere così e io non mi sento adatto a questo mondo. E ci sono minacce che arrivano da lontano e sono così inclassificabili, così incomprensibili, così inconoscibili che non resta che soccombere. O quello che scrive... i racconti e i romanzi, no? Come Malpertus. Noi siamo con Jean Reilly, siamo in una villa dove la vita dovrebbe trascorrere normalmente, gli ospiti dovrebbero essere... dovrebbero comportarsi secondo certe regole, in questo microcosmo che poi è la società, e invece è tutto un po' diverso, è tutto un po' sbilenco, succedono cose strane e non si capisce perché. Naturalmente questo vale anche per La Giosta del Maleficio, dove ci sono i suoi racconti probabilmente più bislacchi, più disorientanti. È appena uscito questo, dategli un'occhiata. O la mont... guardate, andiamo sull'editore che oggi sta stampando nello specifico il weird, no? C'è questo... la montagna morta della vita. Ecco, questa qui è la storia di un naufragio, quindi di una vita che dovrebbe andare in una certa... di una rotta prestabilita che viene interrotta da una tempesta, poi c'è un naufragio su un'isola e su quell'isola tutto quello che scoprirà il protagonista è apparentemente ingiustificato, apparentemente incomprensibile. Ed è appunto questa la narrazione di una vita che deraglia, deraglia, e non si capisce perché. E quindi il disorientamento, e quindi il trauma, che è quello che racconta anche Lucio Besana nelle sue storie della serie Cremisi. Qual è il trauma nelle sue storie? Il trauma è nello specifico che... la realtà è diventata proteiforme, la realtà non risponde più ad una logica neanche della fisica, per cui c'è un completo collasso del senso intorno ai personaggi. Difficilissimo quindi trovare un proprio percorso, una propria rotta. Se tutto intorno a te il mondo sta cambiando senza apparente senso. È qualcosa di incontrollabile. Così esattamente come i grandi antichi, le creature terribili di Lovecraft. E si può dire lo stesso di un libro estremamente weird come questo, Il segreto del ventriloquio. Anche qui, in un'altra chiave, abbiamo una realtà che è completamente esplosa. Esplosa, ma proprio a livello molecolare. Cioè non si capisce che... Si fa fatica, poi si capisce, a comprendere quali siano le coordinate di questa nuova realtà. Mi viene in mente anche il capolavoro cinematografico di Tarkovsky, no? Stalker o Stalker, che è una perfetta descrizione, secondo me, di questa emozione del weird. È troppo weird, non ci capisco niente. Mi affascina, mi spaventa, voglio capirlo, ma è molto weird e mi turba. Questa è la realtà in cui viviamo, che secondo me è stata anche molto ben raccontata da una scrittrice come Lisa Tatl. Lisa Tatl è... Ecco, una di quelle che proprio, secondo me, sono in grado, perfettamente in grado, di farti provare quella specifica emozione che io chiamo vuoto d'aria. Il vuoto d'aria. Secondo me, appunto, siamo arrivati un po' alla ipotesi che il weird sia la narrativa di questo vuoto d'aria e la narrativa del trauma, perché il trauma lo si vive, lo si seppellisce in qualche modo, ma è sempre presente e quindi ritorna. E leggere questo genere di storia ci dà modo di, in qualche modo, di smaltirlo, di esperirlo di nuovo, di viverlo, di avvicinarlo alla superficie della coscienza, dove in qualche modo noi almeno possiamo un po' maneggiarlo, possiamo farci qualcosa e non esserne soltanto vittime. In più, è una narrativa, quella del weird, estremamente contemporanea, perché ci racconta proprio questo mondo che noi non capiamo più e che ci minaccia. Queste forze minacciose che incombono, vastissime, vastissime, vaste quanto quello che possiamo definire un iperoggetto. Un iperoggetto. Che cos'è un iperoggetto? È un'entità talmente vasta, di proporzioni talmente ciclopiche, che noi, per come è fatta la nostra sensibilità, la nostra coscienza, per come è costruita la nostra cognizione, il nostro apparato cognitivo, per come è fatto, noi non riusciamo a vedere un iperoggetto. È troppo complesso, troppo grande, è troppo, troppo. Come ad esempio il cambiamento climatico, che è causato da una serie, e le sue conseguenze naturalmente, è cambiamento climatico e sue conseguenze, che sono un tale groviglio di concause complessissime che noi non solo non riusciamo a capirlo, ma non riusciamo neanche a concepirlo. Quindi qualsiasi tentativo di metterci, di instillarci un senso di allarme per la minaccia incombente, bene o male si ferma a livello, diciamo, a livello razionale, ma non diventa una vera e propria paura, che questa sì ci spingerebbe tutti quanti collettivamente all'azione, il che probabilmente ci rende papabili di estinzione, se non troviamo il modo di vedere meglio questo iperoggetto. E qual è un racconto che ci racconta proprio, ci mostra che cos'è un iperoggetto? È il famosissimo Il richiamo di Cthulhu, di Lovecraft, che, se ricordate, è costruito proprio attraverso una serie di scene che ci portano in diverse parti del mondo, dove cogliamo degli indizi di un nuovo culto, un culto religioso, poi c'è una statuetta, eccetera, eccetera. Quindi piccoli indizi che ci mostrano che cosa? Ci fanno capire che sta per emergere la minaccia rappresentata da Cthulhu. E solo alla fine possiamo contemplarlo nella sua imponente, traumatica bellezza orribile. Ecco, questo è un po' quello che è emerso dalle nostre riflessioni sul perché il Weird meriti oggi di essere letto, meriti di essere scritto e perché, come abbiamo intitolato in realtà con una, un po' una butade, un titolo che voleva essere anche un po' di richiamo, no? Perché voleva incuriosire perché questo devono fare i titoli. Abbiamo intitolato appunto la conferenza Weird is a new nerd. Cosa vuol dire? E con questo poi chiudo e mi direte se siete d'accordo, eccetera, eccetera. Vuol dire che quando ormai decenni fa abbiamo percepito che la società stava cambiando a causa di tutta una serie di trasformazioni, in particolare tecnologiche, c'è stato chi quelle trasformazioni le ha subodorate, le ha fiutate e ha capito il loro potenziale, lo ha capito meglio di altri. Ecco, questi sono stati i nerd che sono diventati poi imprenditori, sono diventati informatici, sono diventati esperti di tecnologie nuove, eccetera, eccetera. E oggi i nerd sono un po' i padroni del mondo, da un certo punto di vista. Bene, il weird è, secondo questa nostra ipotesi un po' provocatoria, i weirdos, cioè quelli che leggono il weird, sono la forse, l'avanguardia di una nuova sensibilità, cioè di coloro che, consciamente o inconsciamente, stanno captando le onde, del futuro, che, diciamo, in un certo senso viaggiano verso di noi facendoci intuire già quali saranno i traumi a venire. E noi ci stiamo facendo i conti, in un certo senso, già adesso. Quindi, weird is the new nerd. Non so se siete d'accordo. Fatemi sapere se tutti questi discorsi un po' complessi, me ne rendo conto, vi possono interessare. Questo è un canale post-nerd e non ci accontentiamo di leggere delle storie emozionanti. Vogliamo capire il loro perché, il loro per come. Vogliamo andare, vogliamo leggere anche fra le righe. Questo ci interessa. Ok? Bene. Ditemi cosa ne pensate. Vi lascio qui, naturalmente, qui sotto c'è lo spazio per i commenti. Se vi è piaciuto questo video vi invito a premere like, perché questo aiuta molto il canale. Davvero molto. Quindi vi ringrazio. Mettete un click, un like, non vi costa niente. E io ne sarò molto felice. Questo per oggi è tutto da Flavio Truisi di Broken Stories. Statemi molto bene. Ciao. Ciao. Ciao.